Ciao a tutti ragazzi, ciao! Benvenuti in un video cazzeggio, buon inizio di fine video e buon inizio di prima settimana a tutti gli altri. Siamo in un cazzeggio ragazzi perché? Perché siccome non ne facciamo da tanto tempo, poi abbiamo iniziato con Minecraft di nuovo e ora niente, valanga di cazzeggi ragazzi. E quindi questo gioco, come potete vedere nel video, è Terraria. Bravo! È Terraria, è molto simile. E mentre questo gioco è Albero Terraria. Albero Terraria è molto simile a Minecraft, nel senso che si distrugge, si costruisce, si distrugge, si costruisce e si esplora. Io non ho già mai giocato a Terraria! La differenza di Terraria con Minecraft è che Terraria è in 2D, mentre Minecraft no. E quindi io direi subito di fare il giocatore single, inserisci il nome del personaggio, io lo chiamerei come? Johnny no, Johnny no. Johnny culo. Culo di gomma, anche se era French, no? French culo di gomma, però il nostro è Johnny culo di gomma. Perfetto, Johnny così si scrive con l'h di mezzo. Ma sì! Ma noi sì, lo scriviamo così Johnny. Oh, è la mia. Che è quello? Quello è il nostro, praticamente ci istruisce, è Brandon. Brandon culo di legno, Luca. Brandon culo di legno. Brandon culo di legno, e ti stai fermo? Sono qui, per darti consigli su cosa fare dopo, ti consiglio di parlare con me ogni volta che sarò nei guai. Sì, perché culo di legno è inglese, di origini anglosassoni. Va bene, sì. Bravo, bravo, in questo caso hai fatto conoscenza. Farmer, fermer, fermer. 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 Fermer, artigiano. No, no, farmer. Artigiano, lui ti dice che cosa può fare. Praticamente tu hai spada, tu hai spada, no? Però è bloccata, perché è bloccata? Io so solo che devi raccogliere abbastanza regna. Ce l'ho scendato! Nei, lascialo stare. Devi raccogliere abbastanza regna da poter farti un rifugio, perché la notte arriva presto. Qui non è come Minecraft, è che la notte magari puoi arragnarti. Certo, con i... Qua è veramente tosto, perché arrivano un casino di nemici. Wow! Peglia tutte queste cose? Ok. I pinguini! Non me lo chiede. Oddio! Ok, mi sa che la testa dello scritto lo sei andato a fanculo. Oddio, mi sento in colpa ora. Sbatti il cocozzone. Il cocozzone! Il cazzo è il cocozzone. La cura che c'è l'ameba. Vabbè, noi facciamo subito qua, ok? Io direi di farlo acqua, vieni, 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 vieni. La memba la ammazziamo, la memba la ammazziamo, vieni. Salta? Ah, ci faccio, ci salta, sì. Ottimo. Facciamo una saltare. Vai, non è che ci stiamo tre ore a battere, no, la pazienza. No, è già morta, è già morta. Vai, vai, vai. Tieni premuto, oppure... Tieni premuto. Gel, moneta di rame, ottimo. Va bene, ma vieni qua. Oddio! Ah, ok, abbiamo il banco di lavoro che è qua. E ne facciamo la porca di legno, la porca di legno. E ne facciamo pure l'assedio di legno. E vai, 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 vai Gotti, vai. Minchia, vai, non c'è bisogno della porca. Ah, ho capito, è tipo nello sfondo. Ah, ora è intesa. Vai, vai qua, vai qua. Mi intesisti, mi intesisti. Sì, vai, minchia, ma non ho tante non assai, già stanno finendo. Eh, certo. Ottimo, essa è una cazzo di casa. Ma ci vuoi mettere una torcia? Che c'è bello, che sto vedendo pure io. A proposito del buio. Ok. Minchia, tu. Perché tra si avvicinata gli occhi? Oh, si può appendere la torcia, no? Vai dietro, sì. Ah, che torcetto, cia, fiaccolà, fiaccolà. C'è un uccello. Ok, metti dica pure. Sono particolarmente bravo questo gioco, vero? Moltissimo. Grazie. Guardate che... Metti una una di polampadario. No, no. Sì. Non ci arriva, forse, infatti. Non lo fa. Non lo fa. Ah, non lo fa. Oh, bici. Che figo fa. Ah, vabbè, serio, serio. Serio, 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 serio. Serio Sam, serio Sam. Allora, noi, in teoria, questo gioco in cosa consiste? Infatti è sempre più grande, è più grande. Sì, però lui ti consiglia, in gioco, in teoria, ti consiglia di crearti questa cassa, e poi tu di scavare e trovare le miniere sotto. E pia, tipo sotto sto gioco, c'è tipo un mondo. Oppure le ms, cazzo. Vabbè. Ah, beh, scavata. Mi piace vedere perché tu dici come faccio per risalire. Ah, certo. Devi fare le piattaforme di legno, che sono tipo così. Ah, ovvero. Le prendi e fai così. Ah, figo. Salta. Figo, figo, è per scendere di nuovo. Salta. Ah, sì. Figo, figo, vabbè, ecco, ne manco. Salta. E così. Abbiamo una volta. Perfetto. Tu vai avanti così. E che tu devi sfruttare la notte in questo modo, invece il giorno lo sfrutti per... Prendere il legno, tipo, va, come se fosse una specie di gioco proprio vero, vedo qualcosa. Uh, c'è un passaggio. Vai, scendi. Guarda l'occhio. Che schifo. Scendi, scendi prima che c'è un marzo. Ah, non devi sfidarlo. Sei morto. Si è spenta la torta. Ah, ok. Guarda, qua c'è un mondo. È il vaso. Che cosa c'è nel vaso? Tu lo puoi prendere per usarlo come soprammobile. La costafiglia è la minimappa. Salta, è affidata. Maneta di rame, ok. Io ho maneto d'argento anche. Ah, argento. Prendi le torce. Minchia, ma se tu ti spegni. Che cos'è il rame? Sì. Ti serve, no? No, vabbè. Comunque ragazzi, questo è la torta. Questo è la torta. E' abbastanza carino come gioco, se dobbiamo dirla tutta. Eh, beh, se vi piace Minecraft o comunque giochi di questo genere dovete esplorare, costruire, creare robe, distruggerle. Questo è il gioco che fa per voi. Scendi, non c'è qualcosa. Mio Dio, hai trovato un mondo. Hai trovato un mondo. Guarda cosa c'è. Tutte le cose di ghiaccio. Ecco dove spawnano. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto, come sempre, pollice su, commentate, condividete e ci vediamo al prossimo cazzeggio. Ciao!